Questo ha fatto l'allarme, è stato bravissimo. Tutti quanti mi dici bravo, tu sei bravo. Sì, perché sono brave gente. Uno bravo in India dice che tu sei... tu... Bohobadiyah, tic tac. Eccolo, è lui l'eroe del giorno di Santa Lucia di Piave. Si chiama Saeed Mandip, indiano del Punjab, in Italia da 2009, con moglie e figlio letto. Un immigrato regolare di professione saldatore, ma che in India svolgeva il lavoro di guardia. Ed è stato proprio l'istinto della sua precedente occupazione a permettergli di mettere in fuga da solo quattro ladri, che poco dopo la mezzanotte hanno tentato di penetrare la villetta del vicino. Sono uscito fuori, guardare qua, quattro persone per mare, una persona dentro, due persone per mare qua, una donna. Quando ero fuori, guardare, io ho chiamato, chi è? E' subito andato via, anche andare dietro. Un vicino a Bella Venezia, a pizzeria, ho lasciato macchina là, macchina Audi, targa, coperchio, avanti e anche dietro. I complimenti ufficiali anche dal sindaco. Insomma, un plauso, e questo dovrebbe essere il sistema in cui i cittadini generalmente avvisano di questi tentativi di furto, di furto di movimenti sospetti. Singolare la coincidenza con la volontà di istituire delle sentinelle di quartiere. Proprio lunedì prossimo approveremo un regolamento per la polizia e per la sorveglianza ambientale. Magari proporremo anche all'amico indiano di iscriversi a questo, sarà un'apposita convenzione. Una raccomandazione anche a fare di più da parte del padre di Said dall'India. I ladri sono avvertiti. Quando la prossima volta arrivo qua all'Andri, tu sei, no, la prossima volta non scappare via all'Andri, tu teni.